ciao a tutti ragazzi ciao a tutti oggi andiamo ad esplorare un nuovo parco questa volta ci troviamo a brockton non mi ricordo il nome del parco si ci sbrichiamo a fare l'introduzione adesso andiamo in giro con arley e anche oggi va bene andiamo andiamo ecco qui oggi finalmente una bella giornata anche piuttosto calda quindi faremo un brevissimo giro arle non raccogliere tutto quello che trovi per terra diciamo che arley era impegnata a raccogliere le cacche delle papere alla piuma arley va bene alla sputata vabbè la sputerà e c'è le papere insomma le anatre selvatiche perché è niente tutte le piume sono le sue intanto poi le sputa va bene è una missione questa passeggiata andiamo a vedere le anatre selvatiche da vicino vediamo se arley ci ha preso confiniente le piume si arley ok vedi le anatre arley andiamo a vedere quella famiglia di anatre con tanto di anatroccoli che stanno entrando nell'acqua guardate che bello guardate che carino tutta la famiglia arley guarda la famiglia di anatre a lei è talmente impegnata che c'ho che c'ho a pensavo che avessi un'anatre che mi stesse per prendere di mira ecco arley che ammira le anatre sì arley lì c'è un esercito di anatre secondo te saranno amichevoli che ne pensi paola forse è meglio che non ci avviciniamo troppo io non so la reazione di un'anatra selvatica vabbè ammiriamo questo spettacolo vai arley fai vedere quanto sei feroce stanno scappando vedete hanno paura guarda 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 hanno fatto splash peggio e silencio arley fai vedere che stanno vediamo se si trovano tutto indone dai po pas Nearby giorni amo guarda guarda dai Paola riprende anche queste che si tuffano ah benissimo bene ragazzi con questo video vi abbiamo dimostrato la ferocia di Harley che adesso sta ammirando tutte le anatre che stanno facendo il bagnetto non puoi andare anche tu Harley affoghi ecco qui che spettacolo vabbè adesso ce ne andiamo così le anatre possono tornare al loro posto no Harley no bene ragazzi questa breve ma breve passeggiata finisce qui perché il video sembra breve la passeggiata però non lo è stata perché Harley si ferma ogni due secondi a raccogliere cose e siccome che fa molto caldo oggi è meglio non rischiare perciò vi salutiamo insieme ad Harley che ha voluto dimostrare la sua ferocia con le amatre selvatiche e torneremo su questi schermi insieme a lei adesso non so quando Paola perché dovrà tornare a casa sua questa sera meno male perché così almeno potrò dormire perché ieri ha deciso di giocare a mezzanotte esatto saluta Harley guarda lì guarda lì sì aspetta aspetta Harley saluta ok e sta a cercare i papere vabbè le amatre selvatiche sì ok ciao a tutti ragazzi sì